Comunicazione ufficiale di Conte, l'Italia si prepara al lockdown dalla vigilia di Natale fino al 6 gennaio, nei festivi e prefestivi, quando sarà zona rossa, durante le feste solo 4 giorni in arancione. Udine e Genna 7 anti-covid per il fine settimana, già attivi sei varchi antifolla, consenteranno le forze dell'ordine di gestire l'afflusso di persone, in caso di assembramenti saranno blindate le vie centrali. Gorizia e Nova Gorizia saranno capitale europee della cultura nel 2025, sindaci italiano e sloveno hanno atteso insieme il verdetto in piazza Trasalpina, dove poi hanno festeggiato risponso. Solo al termine del restauro, per il quale ci vorranno ancora 2-3 mesi, si potrà sapere se l'estate di San Francesco è sposta in Castello Udine o un autentico Caravaggio, lo dirà una delle massime esperte in Italia. Rivelazione shock del difensore dell'Udinese, Sebastien Dedvaio, ha avuto il covid, scrive su Instagram, prima la febbre e poi la polmonite, l'ospedale e la solitudine. Oggi il francese è tornato ad allenarsi con i compagni. Buonasera, ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È in corso in questi minuti il Consiglio dei Ministri decisivo per capire quali strette saranno applicate a tutta Italia durante le festività natalizie. Dopo giorni di contrattazioni tra rigoristi e allentisti a passare sarebbe stata linea dura pur con qualche deroga. Zona rossa in tutto il paese nei giorni festivi e prefestivi, arancione negli altri giorni, quindi stop agli spostamenti, se non per motivi di lavoro o di salute. Nei giorni 24, 25, 26, 27 dicembre e 31, 1, 2, 3 gennaio. Dovrebbe essere confermata la deroga per due non conviventi a pranzo, senza contare eventuali minori di 14 anni, quella per i piccoli comuni. Sotto i 5.000 abitanti ci si potrà spostare nell'arco di 30 km dalla propria residenza. Resta invece da sciogliere il nodo se queste deroghe sono previste solamente in periodo di zona arancione. Quindi con l'impossibilità di uscire dal proprio comune o se anche durante la zona rossa. Nel pomeriggio ha parlato il presidente della conferenza della regione Stefano Bonaccini che ha commentato l'importante è avere tutti la consapevolezza che ci sia un grande rigore per evitare la terza ondata. E Bonaccini ha parlato anche dei ristori. Si possono chiedere sacrifici ma bisogna anche che le risorse promesse arrivino. Ed oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 753 nuovi contagi a fronte di 7.781 tamponi molecolari e 33 decessi da Covid-19. Sono i dati comunicati dal Friuli Venezia Giulia e inseriti nel bollettino del Ministero della Salute. 59, due in più rispetto a ieri le persone ricoverate in terapia intensiva mentre calano quelle in altri reparti che si attestano a 601, 29 in meno rispetto al precedente report. Le persone in isolamento risultano essere 13.091 mentre quelle attualmente positive sono 13.751. Sono stati installati questo pomeriggio e sei varchi antifolla a Udine nel pieno centro cittadino. Tra oggi e domenica permetteranno le forze dell'ordine di gestire a flusso e deflusso dei passanti blindando le vie centrali di Udine nel caso in cui si verifichino assembramenti come nello scorso weekend. Ci troviamo in via Savorniana Udine, proprio qui c'è una zona già pronto, un varco, proprio per evitare assembramenti nel centro cittadino. Per oggi, domani, sabato e domenica c'è la possibilità nel caso in cui dovessero verificarsi degli assembramenti o delle situazioni che possano mettere in pericolo la salute pubblica che è per noi un bene essenziale, un bene primario, di chiudere gli accessi alla zona più centrale della città, attendere che le persone defluiscano e poi riaprire i varchi. La zona più centrale quindi viene interamente transennata, si può accedere e defluire unicamente dai sei varchi principali, questo è uno di questi. Sono in tutto quindi sei varchi, sono fondamentalmente le vie principali di accesso al centro, quelle che noi abitualmente percorriamo per entrare nelle zone più centrali. Quindi oltre a via Savorniana c'è Piazza Libertà, Piazza Marconi, via Valvason, Galleria Bardelli e l'angolo tra via Canciani e via Cavour. Quindi sono fondamentalmente le vie che noi abitualmente percorriamo per entrare nella zona. Questo dopo aver visto la grande affluenza dello scorso weekend proprio qui a Udine. Sì, devo dire che nello scorso fine settimana alcune situazioni delicate si sono verificate, non certo come in altre città. Abbiamo ritenuto però che il rischio potesse essere troppo elevato, ma soprattutto l'obiettivo è quello di fare di tutto per evitare una terza ondata che sarebbe devastante soprattutto per l'attività economica perché abbiamo incontrato comunque anche il favore da parte delle categorie. Ed ora la situazione dei ristoranti in vista del Natale. Siamo andate al ristorante La Di Moretta Udine che attende appunto le disposizioni governative con 120 prenotazioni per il pranzo di Natale, ma dimezzati gli ordini di materie prime. La nostra azienda da inizio pandemia ha perso circa 2 milioni di euro, commenta il titolare Eduardo Marini. Ormai sono un ricordo, 200 coperte per i pranzi di Natale registrati negli anni scorsi e vivere nell'incertezza attendendo le disposizioni governative ad una settimana dalla festività mette ancora in più in crisi i ristoratori. 120 al momento le prenotazioni, ma sono dimezzati gli ordini delle materie prime al ristorante La Di Moretta Udine. Pensiamo che saremo chiusi, ma il governo non ci ha ancora dato indicazioni ufficiali, per cui se dirà che potremmo stare aperti probabilmente non avremo il tempo per ordinare le restanti materie prime. Se saremo chiusi probabilmente le butteremo, probabilmente le regaleremo a qualcuno. Non ci meritiamo un trattamento di questo tipo. Siamo aziende, siamo persone, ci sono famiglie dietro di noi che meritano rispetto, non meritano certo questo trattamento. Nelle altre nazioni si chiude e si danno i ristori seri. Qua si chiude e si fa finta di dare ristori. La nostra azienda da inizio pandemia ha avuto circa 2 milioni di euro in meno e ha avuto ristori per circa il 5%. Ho la fortuna di avere avuto dei crediti che dovrò restituire, però alla fine della faccenda saremo costitati a aprire un mutuo che finiranno di pagare probabilmente i miei figli se continueranno a fare questo lavoro. Per cui il nostro lo stiamo facendo. Non ci sentiamo assolutamente tutelati e chi non può avere le garanzie che magari possiamo dare noi sarà costretto a chiudere. Quindi veramente ci sono cittadini di serie A, cittadini di serie B. Scende in campo contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari, fenomeno in preoccupante crescita con una campagna di sensibilizzazione mirata. Le aggressioni agli infermieri sono in media 13-14 al giorno. Le aggressioni sia fisiche che verbali agli operatori sanitari sono in preoccupante crescita, tanto da indurre il governo ad approvare una norma che prevede sia l'inaspiramento delle pene che la creazione di un osservatorio nazionale e la promozione di campagne di sensibilizzazione. Il 46% delle aggressioni, secondo i dati INAIL, riguarda il personale infermieristico e al 6% i medici. Le aggressioni agli infermieri sono in media 13-14 al giorno. In Friuli Venezia Giulia, oltre alla formazione degli operatori nel corretto riconoscimento delle situazioni a rischio, sono state realizzate tre immagini che potranno essere utilizzate in tutti i setting di assistenza sanitaria. È evidente che noi dobbiamo cercare di contrastare in tutti i modi possibili questi fenomeni. Passiamo dalla fase iniziale della pandemia nella quale il personale sanitario veniva definito come un eroe e arriviamo a definirlo un tore, è inaccettabile. Usare toni forti da una parte o dall'altra è esaspera il nostro vivere e io credo che già in questa situazione di grande incertezza che tutti stiamo attraversando non credo che questo sia il modo giusto. Davanti a dinamiche di questo genere, a numeri di questo genere, è evidente che il sistema è in difficoltà. Credo che le difficoltà di questo momento vadano superate mettendo nelle condizioni il personale, i professionisti del sistema di salute, di fare il loro lavoro sapendo che ci sono dei sottodimensionamenti che sono figli di una storia molto lunga. Non è sufficiente dire assumi, assumi, assume, perché quando tu decidi di assumere come le aziende hanno deciso di fare, lo puoi fare se tu hai dei professionisti che sono qualificati e formati. Gorizia e Nova Gorizia saranno le capitali europee della cultura. Nel 2025 l'ufficializzazione della notizia è stata accolta dall'abbraccio tra i due sindaci Ziberna e Miklovich che hanno atteso insieme la programmazione in un luogo simbolico. Piazza Trasalpina. Una grande soddisfazione non soltanto per la città di Gorizia ma per la città di Nova Gorizia essere capitale europea della cultura del 2025 è un successo, un grande risultato conseguito questo per tutta l'Europa perché l'obiettivo nostro non è quello soltanto di realizzare i C120 non è soltanto quello di avviare questo rapporto di collaborazione con centinaia di partnership, soggetti pubblici, privati. Il nostro obiettivo perciò non è soltanto quello di arrivare al 2025 ma al 2035, 2045, 2055 è quello di cambiare il futuro per i nostri figli e per i nostri nipoti. Laddove le tragedie del XX secolo avrebbero potuto impedire qualsiasi azione di coesione, di cooperazione internazionale ebbene, proprio qui, proprio su questo confine siamo riusciti prima con i GEC e oggi con la capitale europea della cultura a realizzare il nostro sogno fare in modo perciò che il nostro territorio possa essere anche testimonianza ed esempio per tutte quelle aree di confine in Europa che oggi non riescono ancora ad avviare, a porre in essere queste politiche di coesione. Peraltro sarà anche dal punto di vista dell'impatto economico e turistico stimiamo che questo potrebbe essere il più grande evento turistico del Fiori Venezia Giulia degli ultimi vent'anni probabilmente per i prossimi vent'anni si sentono alle mie spalle queste manifestazioni di giubilo ma di sincera, di vivace gioia e perciò naturalmente cominciamo oggi un nuovo percorso obiettivo arrivare al 2025 e portare con noi il maggior numero di cittadini possibili. Un plauso per il risultato raggiunto da Gorizia arriva anche dal Presidente della Regione Massamiano Fedriga è un trionfo meritato che riempie di soddisfazione non solo le città di Gorizia e Nova Gorizia nuovamente unite in questo obiettivo comune ma all'intero Fiori Venezia Giulia che non mancherà di trarre beneficio e crescita da questa opportunità anche con il supporto dell'amministrazione regionale un successo che preme il lavoro di tutti ma in primo luogo la capacità crescente di fare sistema dimostrata dal territorio goriziano, italiano e sloveno il titolo di Capitale Europea della Cultura suggella un percorso di collaborazione ormai lungo e non sempre facile ma sul quale abbiamo voluto camminare insieme con determinazione ad affermarlo la deputata Deborah Seracchiani commentando la segnastra nel titolo di Capitale Europea della Cultura 2025 a Gorizia e Nova Gorizza siamo alle notizie di Cronaca un ragazzo di 23 anni cittadino straniero ospite di un centro d'accoglienza di Prato Carnico alloggiato in una struttura utilizzata per la quarantena fiduciaria ha perso la vita nella prima serata di ieri a seguito di un malore è scattata subito la chiamata al 112 l'intervento tempestivo del personale medico purtroppo è stato inutile ancora in azione i ladri delle colonnine service della pompa di benzina tra Friuli e Veneto ladri in azione questa notte tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto una banda di malviventi ha rubato una ruspa in un'azienda di Cervignano del Friuli intorno alle 23 e ha sventrato la recensione del posteggio di un'altra ditta dove è stato rubato un furgone con questi due mezzi la banda di malviventi ha poi raggiunto Conegliano Veneto dove utilizzando la benna della ruspa ha letteralmente sventrato le colonnine self-service di un distributore di benzina alcune colonnine sono state poi trovate abbandonate nei campi dopo essere state vuotate del loro contenuto in denaro depositato all'interno delle cassette di sicurezza dopo l'allarme a Conegliano Veneto sono intervenuti i carabinieri ingenti i danni per le indagini procede la polizia di stato i ladri hanno poi tentato di fuggire dopo il colpo utilizzando il furgone rubato a Cervignano sono stati intercettati da una pattuglia mentre scappavano hanno perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un palo a quel punto sono fuggiti facendo perdere le loro tracce dileguandosi a piedi nella campagna la ruspa è stata trovata con il motore ancora acceso nel piazzale del distributore di benzina calci e schiaffi ai passanti che non lasciavano un'offerta a un questuante rumeno di 28 anni già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato nelle scorse ore a Trieste era anche privo di mascherina chiedeva le lemosina in piazza Garibaldi il giovane è stato denunciato e sanzionato per l'assenza di mascherina ed ora andiamo a Udine nuovi controlli in Borgo Stazione 7 i locali chiusi 7 locali e pubblici esercizi sono stati chiusi per varie irregolarità riscontrate a seguito di un vasto controllo eseguito ieri nella zona di Borgo Stazione a Udine sotto il coordinamento della polizia locale del comune del capoluogo friulano il monitoraggio è finalizzato a prevenire e reprimere fenomeni di microcriminalità in questa delicata zona della città ma anche a verificare il rispetto delle disposizioni e delle normative in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 è iniziato intorno alle 14 il bilancio dell'attività è arrivato in serata 7 gli esercizi chiusi diverse anche le sanzioni elevate nei confronti di cittadini trovati senza la mascherina o che non mantenevano la distanza di sicurezza hanno operato in tutto una ventina di uomini tra agenti della polizia locale e agenti della polizia di stato della questura di Udine Da domani, 19 dicembre, il governo austriaco nell'ambito delle misure di limitazione per il contenimento della diffusione del contagio da Covid ha deciso di applicare specifici controlli sanitari al traffico veicolare in ingresso dall'Italia al valico autostradale, quindi quello dell'autostrada 23 al valico dello statale 13 di Cuacao-Tarvisio a quello della strada regionale 110 di Passo Pramollo-Ponteb a tutte le persone italiane o straniere che faranno ingresso in Austria dovranno servire una quarantena di 10 giorni la quarantena si potrà esuarire solo al quinto giorno e solo con un risultato negativo al test biologico molecolare per Covid-19 Approvata nella notte la manovra finanziaria regionale per il 2021 dopo 4 giorni di intenso dibattito in Consiglio regionale Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte la manovra finanziaria per il 2021 Le tre leggi di bilancio sono state votate in modo compatto dalla coalizione di centrodestra mentre le opposizioni hanno espresso voto contrario L'impegno finanziario complessivo è di 4,6 miliardi di euro e circa il 60% delle risorse sarà destinato alla sanità 2,78 miliardi, la gran parte dei quali per la spesa corrente in piena emergenza Covid Tra le altre rilevanti poste in bilancio ci sono i 398 milioni di euro destinati a infrastrutture e trasporti i 115,6 per le attività produttive, la metà dei quali risalvato al turismo e i 106 milioni per l'ambiente Nei quattro intensi giorni di Consiglio dedicate alla sessione di bilancio si è sviluppato un ampio dibattito in particolare sul maxi emendamento presentato lunedì mattina dalla Giunta Fedriga con investimenti per 354 milioni nel prossimo triennio Una scelta forte, quella di ricorrere all'inibitamento che l'assessore delle attività produttive, Sergio Miriobini ha definito nei giorni scorsi un gigantesco bazooka e l'assessore delle finanze, Barbara Zilli, un volano per dare la spinta alla ripartenza economica dopo la pandemia Non la pensa così il capogruppo del PD, Sergio Bolzonello che ha messo più volte l'accento sul fatto che nel 2021 saranno investiti solo 26 milioni una cifra assolutamente normale seminando dubbi sulla possibilità effettiva di mettere in cantiere e negli anni successivi tutte le opere programmate L'investimento che più ha fatto discutere è la scelta della Giunta di ristrutturare due magazzini del Porto Vecchio di Trieste per collocarvi la nuova grande sede degli uffici regionali Aspre critiche sono arrivate dai consiglieri del PD Francesco Russo e Roberto Cosolini convinti che sia un grave errore svuotare parti di città per ricollocarle in un'area che dovrebbe essere destinata ad altre e innovative attività Altrettanto è decisa la replica del governatore Massimiliano Federiga nella parte finale del dibattito Dobbiamo ristrutturare molti immobili che ospitano direzioni regionali ha spiegato Federiga e abbiamo fatto un'accurata valutazione sui costi di manutenzione Questa operazione farà risparmiare la regione e poi andiamo a recuperare e infrastrutturare quelle aree aprendo la strada agli investitori privati Parliamo di un'area vastissima di 65 ettari dove potranno insediarsi tante altre attività Nelle dichiarazioni di voto finale gli esponenti dell'opposizione hanno tutti criticato il metodo adottato dalla maggioranza stigmatizzando il mancato coinvolgimento sul maxiemendamento che indicava gli investimenti del triennio Proporre soluzioni non scaricare le responsabilità sul governo a parlare è Ferruccio Sarol padre di futura la nuova lista civica che esordirà le elezioni comunali di Trieste lui torna all'attacco dell'amministrazione regionale dove andremo? Sicuramente a pranzo fuori Ferruccio Saro e Franco Bandelli non scelgono ancora la riserva su dove andrà a collocarsi futura alle prossime elezioni comunali di Trieste in calendario nel 2021 quello che appare sempre più chiaro è il distacco del presidente della regione Massimiliano Federiga verso il quale la frattura è sempre più insanabile nel mirino del movimento che ha iniziato oramai la corsa alle comunali e guarda anche alle regionali c'è questa volta la sanità e le decisioni della giunta regionale sono fatte delle ordinanze talvolta più restrittive poi sono state ritirate tutto questo ha ingenerato paure e incertezza nella situazione, nella colazione della nostra regione si doveva operare diversamente coinvolgendo tutte le forze politiche tutti gli operatori del settore sanitario con un grande discorso anche di responsabilizzazione dei cittadini purtroppo non è stato fatto prevalso la politica allo scontro politico e dallo scontro non emerge mai una situazione positiva tant'è che noi abbiamo purtroppo avuto in questo secondo lockdown i dati peggiori di tutta l'Italia fino a poco tempo fa non si voleva assolutamente accettare ciò che il governo sosteneva adesso si scaricano tutte le responsabilità delle decisioni di zona rossa durante il periodo delle feste credo che questa non sia una linea giusta e credo che questo crei anche i presupposti magari per una ripresa del lockdown di un terzo lockdown credo che oggi bisogna avere idee molto chiare purtroppo queste non si hanno in liquidazione una delle aziende di punta del comparto edile del Friare Venezia Giulia la Pilosio 50 le famiglie senza lavoro Pilosio in liquidazione una notizia che nessuno avrebbe voluto apprendere ma purtroppo siamo arrivati a questo punto sì purtroppo proprio nella giornata odierna ci è arrivata la comunicazione della volontà del fondo che ha la proprietà della Pilosio di voler attivare la procedura di liquidazione la procedura di liquidazione consiste sostanzialmente nell'esaurimento di quelle che sono le commesse in carico ad oggi ed eventuale chiusura totale e completa della società la società comprende 50 lavoratori quindi 50 famiglie che sono sulle loro spalle è evidente che il Natale che dovranno affrontare questi lavoratori sarà un Natale amaro e il regalo che gli è stato presentato oggi non è sicuramente dei migliori E vostra intenzione adesso procedere in quale senso? Dal nostro punto di vista intanto abbiamo attivato lo stato di agitazione perché ovviamente non accettiamo la posizione del fondo che ha la proprietà adesso poi proseguiremo la prossima settimana con la richiesta dell'attivazione di un tavolo regionale agli assessorati al lavoro e alle attività produttive in maniera tale di poterci sedere con le istituzioni e poter trovare una soluzione a quella che è un'azienda storica del territorio Pilosio tra l'altro in questo momento avrebbe anche un mercato potenzialmente buono sul quale poter lavorare perché i prodotti che vengono fabbricati qui a Feletto sono prodotti riconosciuti a livello mondiale che hanno avuto sempre molta fama in campo internazionale quindi è paradossale avere una società che avrebbe potenziale avrebbe mercato avrebbe i clienti chiudere le serrande e lasciare i lavoratori per strada La Daniele di Butrio ha diritto oggi con lettera del CEO Giacomo Mareschi Daniele al progetto United Nations Global Compact per garantire il proprio contributo per una crescita sostenibile di lungo periodo il progetto vede più di 9.500 aziende partecipanti di oltre 160 pesi nel mondo con l'obiettivo di uniformare le strategie dei soggetti aderenti nel rispetto di 10 principi fondamentali emessi dall'ONU nel campo dei diritti umani del lavoro dell'ambiente dell'anticorruzione Il gruppo Daniele ha impresso una importante svolta sostenibile al proprio operato tanto da diventare uno dei leader mondiali di innovazione tecnologica per il settore siderurgico Ultimo step delle ufficine meccaniche la tecnologia per produrre green steel acciaio sostenibile anche grazie alla tecnologia della riduzione diretta all'uso di forni elettrici digitali capaci di ridurre in modo significativo le emissioni di operare con gas naturali o di idrogeno Sono al termine del restauro per il quale ci vorranno ancora due o tre mesi si potrà sapere se il dipinto l'estasi di San Francesco esposta in Castello Udine è un attentico caravaggio l'opera sarà analizzata da una delle massime esperte in Italia di Michelangelo Merisi Ci vorranno due o tre mesi perché si concluda l'intervento di restauro poi potrà finalmente essere sciolto il dubbio è davvero di caravaggio quest'opera esposta nei saloni del Castello di Udine? Si tratta dell'estasi di San Francesco dipinto di proprietà della parrocchia di San Giacomo di Fagagna dato e incomodato d'uso gratuito ai civici musei di Udine ai quali è affidato dal 1911 ieri in occasione della cerimonia di conclusione dei lavori di restauro del Castello di Udine si sono a lungo soffermati davanti all'opera Vania Gransinig curatrice dei civici musei di Udine il sindaco Pietro Fontanini e l'ingegner Gian Pietro Benedetti presidente del gruppo Danieli dallo scorso luglio il dipinto è nelle mani esperte del restauratore friulano Lucio Zambon il suo progetto è stato approvato dalla soprintendenza l'attribuzione a Michelangelo Merisi da Caravaggio non è ancora certa l'anno scorso spiega Gransinig la parrocchia di Fagagna ha chiesto un giudizio a Rossella Vodret storica dell'arte ed una delle maggiori esperte di Caravaggio per esprimersi sulla paternità ha posto come condizione che l'opera fosse prima sottoposta ad un restauro che portasse il più possibile al recupero dello stato originario il dipinto infatti nel passato ha subito numerosissimi restauri non sempre accorti e ha sofferto molto dal punto di vista conservativo è iniziato così un lavoro lungo impegnativo e certosino che sottolinea Gransinig ha portato alla luce dettagli strepitosi di qualità altissima apprezzabili già ora la storia insomma si preannuncia interessante il finale è ancora da scrivere l'ultima parola a restauro concluso spetterà l'esperta Rossella Vodrett il presidente di Aspia Service Despar Nord-Est Rudolf Staudinger a fine anno lascerà il ruolo per raggiunti limiti d'età e verrà sostituito da Aral Antley Cambio al vertice nel gruppo Despar Rudolf Staudinger lascerà a fine anno la presidenza di Aspia Service la concessionaria dei marchi Despar Eurospare e Interspar nel Trivenete di Emilia Romagna Staudinger ha raggiunto i fatti limiti d'età dopo 20 anni di presidenza e 18 anni nel consiglio dell'amministrazione della capogruppo austriaca oltre che alla presidenza delle società in Slovenia Ungheria e Croazia al suo posto verrà nominato Harald Antley già membro del CDA di Aspia e che in passato ha guidato acquisti logistica e produzione Rudolf Staudinger ha commentato il futuro presidente Antley ha portato con grande visione Aspia Service a diventare un'importante azienda per l'economia del nord Italia al presidente Staudinger vanno i ringraziamenti di tutta la società e di tutti i colleghi oltre 8.000 persone che da lui sono state guidate dall'inizio del nuovo millennio fino ad oggi nei 20 anni di presidenza di Staudinger Aspia ha più che raddoppiato il fatturato e duplicato il numero di dipendenti il presidente uscente ora è stato nominato consigliere dell'organo di sorveglianza del gruppo Siamo alla pagina sportiva con il racconto del difensore dell'Udinese Sebastien De Maio sulla propria esperienza con il coronavirus È un match lunghissimo ma non è finito difendiamoci ancora un po' e prima o poi partiremo in contropiede per segnare il gol vittoria commenta così dal proprio profilo Instagram Sebastien De Maio calciatore dell'Udinese non l'ultima vittoria della squadra bianconera sul campo ma la propria battaglia personale contro il coronavirus L'aveva annunciato un paio di settimane fa il direttore tecnico Pierpaolo Marino che il covid-19 era entrato nello spogliatoio dell'Udinese e ora per parlare di un calciatore bianconero arriva la testimonianza diretta una testimonianza dura che parla di febbre polmonite ospedale e solitudine quel maledetto virus scrive De Maio è entrato nel mio corpo giovane sano e allenato mettendomi KO ho sottolineato giovane sano e allenato perché molti credono siano condizioni sufficienti affinché il covid possa non attecchire e non lasciare strascichi io oggi continua il difensore di Telo Francese mi ritengo un uomo davvero fortunato perché con tutta la fatica del caso posso ritornare a fare il mio lavoro e alla mia vita mentre a troppe persone questo non è stato più possibile De Maio infatti nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi prima da solo e poi oggi finalmente con il resto della squadra Eudinese Atalanta gara rinviata lo scorso 6 gennaio a causa dell'impraticabilità del campo sarà recuperata mercoledì 20 gennaio 2021 chiedo scusa lo scorso 6 dicembre sarà recuperata mercoledì 20 gennaio alle 15 grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli e buona serata